Un caso positivo in una scuola del comune di Capaccio Pestum, l'alunno è stato già posto in isolamento fiduciario. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, dovrà mettere in atto tutte le procedure previste per il caso. Ricostruita velocemente la catena dei contatti per effettuare i relativi tamponi. Nell'attesa delle verifiche da parte dell'Asla, altri bambini si trovano in isolamento fiduciario. Lo studente capaccese è asintomatico. Ha scoperto di aver contratto il virus dopo che è risultato positivo un altro bambino di una scuola calcio di Battipaia, frequentata dallo studente di Capaccio Pestum. Rientrando nella catena dei contatti, è stato sottoposto a tampone. Allo stato attuale, per due seconde classi, compresa quella dell'alunno positivo al Covid-19 della scuola media, sono state sospese le lezioni scolastiche.